Iperiani, eccomi qui a commentare. Questa partita di Miller, Gondi of Summer, azione della Leve Brogna, c'è un Gonde, ma non si sa più che motivo, non viene convalidato. Attenzione, Noko Koen ha sbagliato questo tiro, Koen sbaglia un altro tiro. Daniele Brogna finalmente su Wohl viene convalidato 2-0 come una sua maglietta, ma scoprirà più spagna. Novav Zovic prova il tiro che va fuori. C'è un ultimo cosiddetto per l'Evoli, ma ha avuto il spazio della Leve Koen, per Attenzione, finisce qui.